Avete mai pensato che il 70% dei proprietari di cani ammette di rimanere a corto di idee divertenti? Rimediamo subito con qualche attività fresca ed emozionante. Iniziamo con un po' di Agility Dog fai da te. Allestite un mini percorso a ostacoli in giardino con sedie, coni o qualsiasi altro oggetto sicuro che trovate. È come un parco giochi per il vostro amico a quattro zampe, perfetto per esercizi fisici e mentali. Avete mai provato lo yoga per cani, conosciuto anche come Doga? È un modo rilassante per fare stretching e creare un legame speciale. Immaginate di fare posizioni delicate con il vostro cucciolo al fianco. Puro Zen! Per allenare il suo fiuto, nascondete dei premietti in giro per casa e organizzate una caccia al tesoro. Una bella sfida mentale per il vostro amico peloso. Vi sentite avventurosi? Allora esplorate i sentieri con una bella escursione, lasciando che il vostro cane sia scopra nuovi paesaggi e odori. Un emozionante cambio di ritmo. Infine, se siete vicino all'acqua, provate il paddleboard o il nuoto. Molti cani adorano l'acqua ed è un fantastico allenamento per tutto il corpo. Quindi, prendete il guinzaglio e provate queste divertenti attività. Il vostro cane vi amerà ancora di più.